Il commissario, si può mandare via l'acqua? Me ne serve qualcuna asciutta. Come no? E allora, dottore? La morte risale a 5 o 6 ore fa. Comunque dopo l'autopsia ti sarò più precisa. Sì, ma non dirmi che non sapeva nuotare. È già abbastanza incasinata questa storia. Per ora tutto quello che abbiamo sono delle impronte confuse. Scarpe con la suola di gomma. Beh, è già qualcosa. Sì, figurati. In una città di appena 2 milioni di abitanti, chi vuoi che non abbia delle scarpe di gomma nell'armadio? No, nessun guasto alla luce, commissario. Qualcuno ha infilato dei dischetti di cartone tra il fondo della lampadina e il portalampade. Un sistema ingegnoso. Guardi, ho trovato anche questa. Bravo! Hai fatto un bel colpo, lo sai? Che cos'è? Una traccia? No, è il francobolo della Giamaica. Il sei penni dell'incoronazione.